Mi raccomando prima di iniziare il video iscrivetevi al canale ma soprattutto cliccate sulla campanellina così ogni nuovo video non potrete mai più perdervelo Mai più 14 11 Gimension può abusare il corpo Ligiano, te lo sai l'ambulanza? Si vede sfocato non vomitare sai no sei tranquillo non vuoi beato te ciao a tutti lui è lui e lei è sofì ciao amici siamo mettevise mettevise siamo qua ritrovati oggi nella nostra casa a tokyo come sempre ora qua se vi siete persi l'altro video a tokyo la made in giappone la trovate qui a tokyo e oggi ci sfideremo nella battaglia più epica di sempre ragazzi siamo venuti qua in giappone non potevamo non farvi vedere il sushi quindi ci sfideremo mettevise ti mangerà più sushi sarà il re del giappone del giappone il re del giappone questa sfida è stata proclamata dalla prefettura di tokyo e ragazzi abbiamo shu jitsu che ci ha sfidato in questa sfida internazionale se raggiungiamo il 150 mila anche perché abbiamo speso proprio 150 euro per prendere sto sushi quindi 150 mila che sono gratis raga stiamo montando il blog non ci siamo dimenticati uscirà quando torniamo avanti ma soprattutto ricordatevi di seguirci su instagram chiocciolamotopelusi chiocciolavalebise non si bara chi bara come ha detto bise nello scorso video che si è preso questa responsabilità meno tre punti basta direi di iniziare la made in sushi allora abbiamo qua le bacchette sono abbiamo un sacco di sushi credimi che sono un pochino agitato praticamente abbiamo preso le porzioni per sei persone abbiamo qua io metterò anche la salsa di soia perché il sushi si mangia con la salsa di soia sono un po tesolo credo c'è una di quelle raga questa qua forse è la prima challenge bella da fare cioè stiamo mangiando il sushi chi vedeci qua sotto se a voi piace il sushi ragazzi mangiamo gli stessi spiega metto la sussica la musicetta eroica vai ok tiriamo le bacchette su un sacco di sushi sè 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 signore e signori iniziamo allora le tecniche sono due o si mangia velocissimo o si mangia lento una roba non baro madonna e anzi da oggi pomeriggio da oggi pomeriggio che mi fa per favore in questo non baro ma serio proprio ti prego almeno questa una volta facciamola serio va bene 3 2 1 go senza di toghiate 1 no non me la butti giù 1 a me sei andato già veloce 1 1 folle mai ma che cazzo vieni dalla giungla 1 2 4 cazzo che buono questa challenge mi piace un sacco ragazzi 3 non arriveremo mai alla fine 5 4 6 5 7 comincia un po' a busare il colpo lì già no ma perché secondo me sei da un sacco veloce vai più piano respira 8 si dalla ragazza è mangiando troppo veloce sto masticando perché il mio amico chiam giù giù mi ha insegnato l'arte zen della tranquillità saluzzo e sarà il mio settimo pezzo non è vero certo diamo un po' d'acqua per favore Matteo ragazzo Matteo sei proprio bravo 9 9 come si chiama quello? questo si chiama le ghili 10 10 questo è l'ottavo 11 12 ah cioè c'è andato pure la frittatina la frittatina è lo zenzero zenzero ma anche questo conta come punta è certo è certo tutto quello che c'è nel piatto con te no ma non ne prendere per il culo eh si 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 più ti tira un po' troppo indietro 13 7 no 9 67 ah 16 10 questo è un gamberetto se e ti è caduto se mmm 14 14 14 11 15 15 e poi questo video lo stanno andando a pranzo quindi buon appetito anche a voi che state mangiando 16 15 per cosa e di chi è questo pancino? mio 12 piano eh tutto bene? no 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 guarda quanto ce n'è ancora 13 in inglese si dice 14 e poi dicono che non sono inglese dai come si dice 16 in inglese? basta io mi arrendo ahhh fantastici si è caduto si è caduto 17 che è successo? stavo pensando una cosa se ci sentiamo male non abbiamo un'assistenza sanitaria non abbiamo fatto l'assicurazione qua non ci caga proprio nessuno immaginati più amare l'ambulanza lo sai lui? l'ambulanza? si vede sfocato ma non importa vabbè sta rispondendo ma questa è una cosa seria coglione puoi mai chiamare uno? è il del 118 che sta lavorando e dirutti al tele comunque raga qua in giappone stiamo comprando delle robe strane in dei negozietti qua ad ahiabara ci sono dei giochini strani che potremmo fare delle challenge future molto strane proprio mi devi una mano a vomitare tu sei mi devi una mano a vomitare non sai come vuoi sai una volta cosa ho fatto? no però io non ho mezze misure io ho preso la testa gli ho fatto così ti ho ficato in gola e vomitato tutto quindi dopo ti faccio così eh mi aiuti perché non ma perché vuoi vomitare? più tardi mi credo proprio per la parola oh no e vado a 16 e io devo fare il 18 mmm questo non mi sape che cos'è? ce l'ho rata? che cazzo fai? hai una chiamata in corso qua? il mio 16 l'ho mangiato mettiamo lo scotch e facciamo i miei 16 no 18 scrivete che cos'è questo 19 19 17 perché come diceva mio no chi va piano va sale va sale chi va piano ce l'ho cazzo fatta perché mi intrevano le mani si intrevano le mani chi va piano va sano e va lontano chi va forte va alla morte 20 cadroia che cazzo mi è caduto 18 yeah 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 io sto sentendo male sono 18 Matteo si sta sentendo male io invece no te che te te che te Matteo non vincerà questa fila io sono il più forte te che te te che te Matteo ancora mi interessa è proprio un cretino te che te e le nostre mamme che guardano questo video noi siamo in Giappone stiamo bene fino ad oggi sei 20 tu io sono 18 devo recuperare senti la mia taki la mia taki che cos'è sembra alta si mi stai facendo paura ragazzi stai iniziando a tremare tipo scatti ai filenzi è dura qua la questione eh fratello guarda il cielo non vedo altro colore sono grigio piombo che mi spegne il sole e mangialo tutto l'unica certezza è gli occhi che io cazzo se non ingresso con sta roba non ingresso più raga 21 piano piano recupererò perché Matteo sta cedendo il colpo ci sta entrando dentro ti perfora la pelle cosa fai ma ragazzi sta non sta bene non sta proprio bene Matteo no sei tranquillo non vomita sta roba lo sai che la cagliamo o la cagliamo o la vomitiamo io penso un po' che la vomiterò si una donna Roberto dice 20 20 sto facendo la persona regolare e rispettosa 22 un grande applauso per Bise sotto nei commenti bravo Bise bravo Bise che per ora non hai barato cos'è quello? 23 no no questo è 22 testa di cazzo si no 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 sto scherzando è 23 no ha barato no non ho fatto bene dopo questa sfida raga sono niente proprio cosa c'è? non lo so ti fa riflettere mangiare tanto raga penso a come starò dopo una merda mi fai vomitare no però se va bene non sto bene anch'io prendere il mio 22 io il mio 24 ho la febbre 24 guarda finiamola qua no me ne passano due per recuperarti e tre per batterti non sto bene davvero anch'io non credimi ti ho detto non sto scherzando non è che ti dico non sto bene per il video non sto bene davvero mi hai venuto mal di testa anche a me sono tutto caldo forse il cappello bene ragazzi questo video finisce qua cazzo proprio devo vincere e allora falli questi altri due falli si 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 non è che potrei invitare no anch'io anch'io finiamola qua ho vinto io no no a me fa male non vomitare sai no raga io lo conoscendo questi versi perché dai ho vomitato anche addosare sui bernabè si eh io sto parecchio male ma se devi vomitare vomita qua no sono meno 10 punti pareggiamo non ritiriamo quanti a quanto sei? 23 faccio uno pareggiato ok pareggio ah pareggio ragazzi finalmente pareggia vide beh non esco qua ci stiamo pareggio di vide ma sai ma proprio che ho fatto da cosa eh che si chiamano rigori ad oltranza ma c'è il culo 25 no no non posso mettere tutte le vide vabbè a me ti faccio vincere no e perchè poi poi dicono tutti che se non mi cazzo di te bis basta ragazzi questo video finisce no io l'ho fatto per loro devo ragionare se prendere il 25 e pareggiare o perdere no frate che cazzo fai no 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 tu non sei un amico tu sei una merda ma è una sfida o o o si ma mi illudi del fatto che vorresti pareggiare si ma se tu non no 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 lo mangio deciso 25 e mangio tu questa storia che è ti ha mangiato piano stai recuperando le forze 26 pezzi di sushi ingeriti da questa faccia di cazzo bis adesso ho meno tre punti credo oh no non ce l'ho mi lasci in pace ma che dici va bene faccio il pisello ti pare che mi mettevo il suggerimento uccello per posizione ragazzi cioè ma guarda che gli vedi che siamo arrivati signori e signori bise a quanto eri 20 24 24 meno 3 ragazzi perde questa sfida bise 26 sushi contro il 21 e ma mi toglie il 3 ah perché mi hai tolto 3 punti davvero no vabbè ma questo che format è ho vinto no è una brutta storia no qua siamo male sul serio ragazzi vi chiediamo per pietà si veramente 150 mila like qua trovate la scheda con altri video in Giappone quando torniamo in Italia se torniamo in Italia in Italia monteremo tutto il vlog della nostra esperienza con Giappone la nostra avventura più un video a disneyland Tokyo ma non lo dite a nessuno noi andiamo a vomitare ci rivediamo prestissimo con un nuovo video seguiteci su instagram raga che io lo so che avete instagram ma non ci seguite tutti quindi seguiteci Matteo Pelusi e Valevise METTE VISE METTE VISE METTE VISE METTE VISE che fatica che fatica chi si alzano di qua non riesco ad alzarmi te lo giuro sai che cioè tipo non c'è una bilancia qua se mi peso penso c'è ma io ti voglio usare va bene andiamo dai andiamo aspetta provo apri pronti la veramente dobbiamo togliercelo dal corpo aspetta fammi togliere questo che scherzo toglie no 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 stop ciao ciao